Il loro nome incuteva terrore fra i coloni della frontiera. Non avevano pietà per i nemici e non temevano nulla. Dominavano le pianure del sud ed erano conosciuti presso le altre popolazioni indiane come coloro che vogliono sempre combattere. Erano i guerrieri Comanci. Il loro dominio durò quasi 150 anni. Un secolo e mezzo di potere, espansione e brutale aggressività. 150 anni di paura e rappresaglie sanguinarie. La storia dei guerrieri Comanci inizia e finisce in una regione caratterizzata da canyon scoscesi, vaste distese pianeggianti e colline boscose. Un'area di quasi 50.000 km2 che si estende dall'attuale Kansas fino al Texas centrale. Era una delle più ricche zone di caccia del Nord America, popolata da bisonti, cervi e antilopi. Una terra generosa che soddisfaceva i bisogni del popolo indiano. Grazie a tutti.